La campagna elettorale è finita, abbiamo un sindaco. Nel blog Merano riflette, lei ha la possibilità di fare suggerimenti al sindaco, anche di lamentarsi, di fare anche segnalazioni di qualsiasi genere, così anche il sindaco può veramente verificare questi commenti e anche lavorare con questi. In questo senso vi invito di partecipare e di commentare il lavoro del sindaco nuovo di Merano.